buongiorno oggi introduciamo un concetto che in fisica è davvero molto molto importante c'è il concetto di campo vediamo come funziona è come se la terra fosse legata al sole da una corda perché lei non sfugge il sole ma questa corda non c'è c'è una sorta di attrazione senza nulla in mezzo anche perché tra la terra e il sole non c'è nulla c'è il vuoto assoluto il sole quindi crea nello spazio intorno a sé delle discese che fanno rotolare i pianeti verso di lui poi i pianeti in realtà girando vogliono scappare quindi si crea questa sorta di equilibrio guardate questa figura abbiamo il sole appoggiato su un tappeto se ci mettiamo delle palline le palline vanno verso il tappeto ma non è che se noi non mettiamo queste palline il tappeto non si curva il tappeto è curvato a prescindere dalla presenza o meno di quelle palline lo spazio quindi si curva a causa di una massa lo spazio viene modificato perché c'è una massa che lo va a perturbare una singola massa crea quindi un cosiddetto campo gravitazionale c'è una zona là intorno che è diversa da quella che sarebbe se la massa non ci fosse la massa in questo caso è la sorgente del campo gravitazionale che noi dobbiamo vedere tutto intorno a sé un esploratore una pallina da tennis messa qua dentro verrebbe attratta quindi lei rivela quando viene messa qua che c'è una forza se non ci fosse questa lei viene messa qua e la si ferma quindi lei sarebbe una specie di rivelatore di una particella che si accende dicendo sì dove mi avete messo c'è un campo generato da una sorgente se io sono l'esploratore quando mi avvicino ad una massa sorgente cosa succede vengo attratto da quella massa attraverso una forza che conosciamo benissimo g m1 m2 su r quadro quindi la mia presenza lì rivela che c'è un campo gravitazionale ma se io non ci vado il campo c'è lo stesso ora se la massa esploratrice non c'è il campo gravitazionale generato dalla massa sorgente esiste lo stesso la risposta è sì certo che c'è sono io che quando entro me ne accorgo se in una stanza c'è tanta puzza io non entro e non esploro ma la puzza esiste lo stesso se io non entro e la risposta è sì quindi se c'è una massa intorno a sé lo spazio viene cambiato per definire il campo gravitazionale quindi cosa faccio tolgo la massa dell'esploratore la tolgo prendo la formula che conosco bene e divido per una m piccolo vedete che qua non c'è più la m piccolo perché l'ho tolta questa è la formula del campo gravitazionale che si chiama g piccolo g piccolo è g grande m grande ci sarebbe m primo ma non c'è perché l'abbiamo tolto l'esploratore non c'è perché non è che se lui c'è o non c'è il campo non c'è lo stesso diviso 3 quadro g piccolo si misura in newton al chilogrammo ovvero l t meno 2 guardate l'equazione dimensionale che io ho scritto qua quindi metri al secondo quadrato ops e una accelerazione chiamata come sappiamo accelerazione di gravità che ogni massa inserita nel campo gravitazionale riceve la sorgente se fosse la terra g piccolo sarebbe quindi guardiamo la formula che abbiamo scritto qua sopra g grande massa della terra diviso r quadro facciamo due calcoletti che conosciamo bene 6 67 per 10 alla meno 11 che ovviamente scriviamo qua dopo un brutto errore per 5 98 10 alla 24 per 6 37 per 10 alla 6 otteniamo indovinate un po 9,81 metri al secondo quadrato l'accelerazione di gravità che dalla prima liceo abbiamo sempre utilizzato quindi ogni massa sorgente genera un campo g piccolo che è un vettore è un vettore risposto come radialmente questi sono i raggi di una ipotetica sfera e più siamo vicini più la forza e quindi il campo è intenso perché come vedete è inversamente proporzionale alla distanza quindi l'intensità del campo gravitazionale g piccolo è inversamente proporzionale al quadrato vedete il quadrato della distanza in un bellissimo grafico noi mettiamo il raggio quindi la distanza sull'asse x e cosa succede al campo g se il raggio è piccolo raggio della terra abbiamo circa 9,81 se aumentiamo il raggio al doppio scendiamo immediatamente a 2 a 6 volte il raggio della terra ci mettiamo come distanza quindi molto molto distante abbiamo che la trazione della terra è praticamente 0 infatti nello spazio gli astronauti galleggiano alla distanza circa di 6 rt cioè il raggio terrestre più 5 volte il raggio terrestre abbiamo quasi g uguale a 0 e questo a 31.000 km dal centro della terra gli astronauti galleggiano praticamente già a distanze inferiori ok? questo è il gioco che abbiamo fatto oggi sul campo gravitazionale è un gioco l'altro quanto la terra a distanza l'altro